Ciao a tutti ragazzi e bentrovati sul mio canale youtube da Simone Pasqua La Ternana stravince, la Ternana vince la decima partita di fila la decima vittoria consecutiva contro il Biceglie e il Libero Liberati su un campo abbastanza pesante ma la Ternana riesce lo stesso a giocare bene e fa una partita davvero fantastica la vince per 3-0, golle di Proietti e poi la doppietta di Partipilo ovviamente non sono nell'ordine perché prima vengo al Partipilo poi Proietti e poi c'è il 3-0 finale di Partipilo quindi decisivi, quest'oggi questi due giocatori in maglia rosso-verde ma comunque gioca bene tutta la squadra purtroppo c'è la tegola mammarella e la tegola defend defendi usciti per infortunio, defendi al dodicesimo minuto più o meno e mammarella nell'intervallo quindi c'è un po' di apprezzione per questi due giocatori ma ovviamente la Ternana ha una rosa ampia per poterli sostituire però bisogna monitorare le condizioni dei due giocatori chiave in questo percorso, in questo cammino di Lega Pro per il resto partita davvero buona, bravo il portiere del Biceglie ad evitare qualche gol purtroppo non è andato in gol vantaggiato anche se se lo meritava buono il lavoro fatto da Raicevic anche se non ha segnato eccezionale Partipilo, eccezionale Proietti, bravissimo Darmian è entrato bene su Hacker nel match, ha giocato una partita fantastica quindi una Ternana che vince, convince, gioca bene, non subisce gol siamo anche un po' monotoni perché più o meno lo schema è quello ma ci fa ovviamente piacere e ci fa continuare a festeggiare perché per noi Ternani è già tanto dopo campionati di sofferenza di apprezzione sulla classifica, dover giocare una Ternana così ci fa solo che piacere questo è un merito che va dato a Lucarelli e a Bandecchi